ciao a tutti e benvenuti al 21esimo video dedicato al calendario dell'avvento quindi stiamo arrivando ormai verso la fine vediamo un po' che abbiamo niente non riesco a capire chi sia ma appena lo aprirò nella seconda parte del video lo vedremo il personaggio che abbiamo trovato e behemoth iscriviti al canale